Riscattandovi in casa il 2019 Casalingo, che partita dalla tua visuale ti è sembrata? È stata una partita complicata contro una grande squadra, siamo stati bravi, duttili, cinici a mettere in pratica il nuovo modulo che il mister ha proposto oggi, quindi c'è solo da fare un plauso alla squadra dato che oggi non era veramente facile, ma abbiamo affrontato una squadra forte che può dire la sua nel campionato e abbiamo dimostrato di poterci stare tranquillamente. Una prestazione la tua anche abbastanza decisiva in più momenti, abbiamo visto comunque anche delle belle parate. Sì, sono contento, non ero partito benissimo dato che un'uscita l'avevo fatta a mezza e mezza, ma se vogliamo spezzare una lancia anche da parte mia giocavo in una porta dove non si stava Ritti, quindi un po' di problemi c'erano, però poi fortunatamente è andata bene, sono riuscito a fare qualche parata importante e dobbiamo continuare così. Adesso avete subito ravvicinato l'impegno di Erzachena, che cosa vi aspettate e quanto è importante questa partita per rilanciarvi definitivamente? Sì, noi dobbiamo guardare domenica dopo domenica, partita dopo partita e cercare di fare il massimo possibile, però sicuramente andiamo lassù per fare il risultato, portare a casa tre punti come facciamo in tutte le partite, vediamo se ci riusciamo, però sicuramente l'Arezzo può dire la sua, ha dimostrato di poter dire la sua in tutto il campionato.